Chiamatelo come volete, Russia, Gato, Moscopoli, di fatto la questione è una. Il 18 ottobre del 2018, all'hotel Metropol di Mosca, Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Miranda e il bancario Francesco Vanucci, discussero o no con esponenti della Russia di Vladimir Putin di una presunta tangente da 65 milioni di euro in favore della Lega? E di conseguenza vi furono o meno le presunte ingerenze del governo di Mosca nella campagna elettorale per le elezioni europee? Matteo Salvini per ora non batte ciglio, anzi ironizza, il caso per lui non esiste e oggi pomeriggio non sarà al Senato dove riferirà Conte per l'esecutivo. Ma la vicenda è seria, lo è perché getta ombre inquietanti su personaggi quantomeno vicini a un partito di governo e tutto questo non può essere sottovalutato. Intanto la procura di Milano si muove per fare luce e gli investigatori dopo le perquisizioni dei giorni scorsi pensano di avere in mano qualcosa di concreto sulla presunta trattativa. Questi soldi, 65 milioni, dovevano arrivare alla Lega in maniera piuttosto contorta e artificiosa. L'accordo avrebbe previsto un affare sul petrolio che poi, attraverso uno sconto sulla compra e vendita, avrebbe garantito soldi alla Lega, ma anche tangenti a funzionari russi. Per ora comunque la procura di Milano non intende sentire Matteo Salvini. Grazie.